Il Vangelo di questa quinta domenica di Quaresima ci spiega come i tempi di Dio non sono i nostri tempi. Gesù non va subito a vedere Lazzaro perché il miracolo di risurrezione che doveva compiere era l'annuncio della sua morte in croce e risurrezione al terzo giorno. La parola di Dio di oggi ci insegna anche un'altra cosa di grande importanza. Solo Dio è il Signore della morte e solo Lui può consolarci nelle nostre sofferenze. Gesù è il medico del corpo e delle anime e Lui solo può salvarci. Cristo piange al vedere il dolore delle due sorelle e così il nostro Dio non solo si prende cura di noi ma anche condivide il nostro dolore. Non esitiamo quindi a portare Cristo nella profondità del nostro dolore. Lasciamolo entrare, permettiamogli di guarirci dentro e portarci alla luce della risurrezione. Qual è la morte che ti porti dentro? Quale dolore tenuto nascosto vuoi liberare oggi?